aspettative spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate like, commentate e condividete, al prossimo video ok anche questo vi è andato, adesso possiamo montarlo e adesso lo montiamo e ora? chi cazzo lo monta? aspettative realtà aspettative finalmente sono appena tornato al negozio, ho comprato la miglior fotocamera che c'era per fare video di ottima qualità ok proviamo la fotocamera, vediamo quanto è bella, la qualità, di ottima qualità, ottimo acquisto realtà ed eccomi qua, sono appena stato al cinese, ho comprato il miglior telefono del negozio, il più costoso e adesso ve lo mostro eccolo qua perfetto ok proviamo la fotocamera, vediamo quanto è bella, la qualità, di ottima qualità ottimo acquisto aspettative anche oggi andiamo a controllare i guadagni del mese, vediamo un po' tac, anche oggi siamo portati 3.000 euro a casa, tac, macchine, cazzo di tac, 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 figa, eh, anche oggi siamo portati i panni a casa, tac, realtà anche oggi andiamo a controllare i guadagni, vediamo un po' acquisto ok, un euro, bene anche oggi a fare le put***o aspettative allora direi, facciamo un nuovo canale ok dai, proseguiamo così, creiamo l'accanto e abbiamo un giocomidio pronto, carichiamo carichalo aspetta iscritti, vediamo un'atto allora aspetta, refreshiamo oh wow mille oh oh 10.000 un milione oleee realtà ok un nuovo canale speriamo che vada bene allora l'account creato mettiamo anche già il video giusto? carica il video ok e vediamo come vanno gli iscritti allora aspettiamo un attimo vabbè zero vabbè ci può stare dopo un mese un mese è passato allora ne vanno a cercare vediamo il baghetti oh un iscritto un iscritto abbiamo un iscritto stampa resiste che dobbiamo fare i speciali in tutto dobbiamo fare però aggiorniamo un pesce controllo non si sa mai ma stiamo perso dopo un anno è passato controlliamo ancora una volta dopo un anno zero iscritti zero niente fa ma l'unica soluzione c'è unica soluzione per gli iscritti spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate like e condividete e se questo video raggiunge 100 like ci sarà un nuovo aspettativa contro realtà grazie per la visione al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti